Buongiorno a tutti, mi presento, sono Carlo Freni e sono il responsabile della Yard di Avenza per Beckerius General Electric. Perché siamo qui? Il 28 aprile di quest'anno è stata la giornata mondiale per la sicurezza. Siamo qui per riflettere su cosa è la sicurezza per noi, perché è un momento di riflessione? Perché vi voglio far vedere dei numeri che non sono belli. 221 sono i morti che ci sono stati in Italia dall'inizio dell'anno, in meno di sei mesi. Questa campagna è gestita in Italia da un'associazione no profit, è partita tre anni fa con 120 in Italia, l'anno scorso con 300, quest'anno con 520. Si vogliono fare esattamente 1.020, quanto sono stati purtroppo i morti di media nazionale che abbiamo. 1.000 è la media purtroppo annuale italiana di morti sul lavoro. Non è possibile che 1.000 persone non tornino a casa. Per me è inaccettabile. Oggi celebriamo un milione di ore senza incidenti. Abbiamo deciso tutti all'unanimità, in particolare, di premiare tutta una serie di persone e quindi chiamerei quelle persone che sono state premiate. e la prima persona che non è una sorpresa è Richard Bateman. Christopher Ward. Piero Calzeroni. Enzo Mercury. Michele Piastra. Alessandro Fusani. Giovanni Natale, ctc Oma. Francesco Caci, ctc Contec. Prossimo Roberto Favali. E poi Davide Lazzini, ctc Ascom. Credetemi, è importante che riflettiate e che pensate a quello che facciamo tutti i giorni. Grazie per aver partecipato. Grazie mille. Grazie a tutti.